La terza stagione di Tech Robin potrebbe aver trovato il proprio, nuovo, Principe Filippo, come riporta Varieti, l'attore Paul Bettani sarebbe in trattative con i produttori per il ruolo e dovrebbe di conseguenza sostituire Matt Smith, che ha interpretato il reale britannico nelle precedenti stagioni. Tra gli attori delle prime due stagioni di Tech Robin c'è chi è molto dispiaciuto e chi relativamente dispiaciuto per il fatto di dover abbandonare il proprio ruolo, ma il creatore della serie Peter Morgan è convintissimo di dover scegliere attori adatti per le età in progressione dei suoi personaggi piuttosto che optare per un classico trucco invecchiamento. Anche Vanessa Kirby, che interpretava la principessa Margaret, sarebbe già stata sostituita, il condizionale è d'obbligo, perché anche in questo caso si parla ancora di trattative, da Elena Bonham Carter. La stessa Claire Foy, che invece aveva il ruolo della protagonista Elisabetta II, ha dovuto cedere lo scettro alla collega più a gay Olivia Colman. Bettani interpreterebbe quindi il marito di Elisabetta nella terza stagione, non ancora ufficialmente rinnovata da Netflix. Peter Morgan ha dichiarato che in tutto ci saranno almeno due turnover di attori nel corso della sua serie sulla regina Elisabetta, che consisterà in 6-7 stagioni in tutto. A questo proposito, attualmente, Paul Bettani sembra essere il candidato ideale per il ruolo del principe Filippo, la casa di produzione Left Bank, che fa parte dalla 500 alla 1 Sony Pictures, sarebbe già decisamente convinta sull'idoneità della star. Le alte sfere Andy Harris e Suzanne McKee avrebbero già incontrato Bettani a Hollywood in compagnia del suo agente e starebbero discutendo sui dettagli. Il curriculum di Bettani lo rende senz'altro idoneo al nobile ruolo, nato ad Arlesden, a nord-ovest di Londra, è un figlio d'arte con una formazione teatrale e, oltre che attore, è regista di film e spettacoli da palcoscenico. Ha recitato in film vari, da Wimbledon I o Ung Vittoria fino ai film sugli Avengers e in Captain America, Civil War, dove ha interpretato il ruolo 501 Visione. Bettani è quindi anche un interprete eclettico ed estremamente versatile. Attualmente è impegnato anche in solo, a Star Wars Story, lo spin-off di Star Wars, che uscirà il 23 maggio 2018 nelle sale italiane. Che ne pensate? Secondo voi Paul Bettani è la persona adatta a interpretare il principe Filippo? Grazie. Grazie.